Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono con un bellissimo libro di Gianettore Gassani, in cui ho messo anch'io però un po' lo zampino, così come anche il dottor Valerio De Gioia. La guerra dei rossi. Sono racconti di famiglie di violenze prima e durante il Covid. Quindi vi invito a leggere e a regalarlo per Natale. Beh, devo dire che in assoluto ringrazio Arianna per la sua postfazione meravigliosa. Che è un libro, è un vero e proprio libro. E ringrazio Valerio per la sua prefazione commovente. E beh, c'è il libro La forza delle donne di Adriana Paletteri, che è un libro per tutti. È un libro per le famiglie, per le scuole, per gli avvocati. Quindi vi invito tutti gli avvocati dell'Ami e tutti gli avvocati in generale a leggere questa testimonianza di una giornalista che sempre sarà in prima linea per combattere la violenza di genere. Perché è proprio attraverso questi libri che si cambia la cultura di una società. Grazie. Grazie.